Nell'azienda sanitaria locale di Foggia lavorano circa 4.000 persone, oltre la metà sono donne. E per tutelare Costoro, che è un protocollo d'intesa, è stato siglato dal direttore generale Attilio Manfrini e D'Antonietta Colasanto, consigliera di pari opportunità per la provincia di Foggia, cioè la figura istituzionale che si occupa, per conto del Ministero del Lavoro, di vigilare sull'applicazione delle leggi antidiscriminazioni. Il protocollo prevede di dare il via ad una serie di attività, indirizzate soprattutto all'informazione, alla prevenzione degli abusi e quando occorre alle sanzioni. Ci saranno in seguito protocolli operativi veri e propri per definire tempi e modi delle singole iniziative. Qualcosa in verità già si sta muovendo. Dall'anno scorso è attivo, presso l'ASL, uno sportello gestito dal Comitato Unico di Garanzia, al quale può rivolgersi chi ha subito dei torti. E sinora sono state raccolte una ventina di segnalazioni, un paio anche da uomini. Sono i primi passi sul cammino di una parità che, a parere delle interessate, in provincia di Foggia è ancora lontana. La nostra terra è una terra comunque deputata all'agroalimentare, quindi per esempio la donna viene accettata perché lavora, lavora più degli uomini, però subisce per esempio tutta una serie di violenze. Noi sappiamo che questa terra ha la grossa piacca del caporalato, per cui insomma anche questa è discriminazione. E negli uffici? Negli uffici c'è, sì, però io ritengo che dipende poi ovviamente da chi è a capo della struttura.